E' andato in scena anche quest'anno a Torre San Giovanni di Ugento per il 16esimo anno consecutivo il torneo internazionale di Beach Tennis con la terza edizione del Memorial Cristiano Tricarico, una manifestazione che esposa la solidarietà poiché le quote dell'iscrizione hanno contribuito a sostenere la Lilt, lega italiana per la lotta ai tumori e cuore amico progetto Salento Solidarietà. La manifestazione è inserita nel calendario ITF e ha visto la partecipazione di alcuni dei giocatori di Beach Tennis più famosi del mondo. Le partite si sono giocate nel formato del doppio maschile, femminile e misto. Non sono mancati gli eventi collaterali a supporto per coinvolgere il pubblico in un'atmosfera festosa. Il monte premi è stato di 5.000 euro. Grande entusiasmo per gli organizzatori e in particolare per il direttore del torneo, Relio Congedi, per l'aumento della popolarità di questa tappa del circuito di Beach Tennis a Ugento. Tanto entusiasmo, tanta partecipazione, è stato un piacere collaborare con cuore amico, un'associazione molto ma molto importante e siamo veramente orgogliosi come primo anno. La nostra prima vittoria qui a Ugento in realtà è una vittoria che ha un sapore diverso. Dopo tanti tornei giocati senza idei, rigiocare è stato difficile perché a livello emozionale è stato diverso. Sono contentissimo per questa vittoria, non partivamo da favoriti, felicissimi ogni anno di ritornare qui. Per me è la seconda vittoria e sono ancora più contento perché al mio fianco c'era un mio allievo. Allievo Allievo